giorni come se non ci fosse più attorno l'aria vorrei ricominciare ma sono libero ormai non riflette più il pensiero chiedo di come meglio è se torna l'aria giorni come se non ci fosse più attorno l'aria vorrei ricominciare ma sono libero ormai non riflette più il pensiero chiedo di come meglio è se torna l'aria chiedo di come meglio è se torna l'aria non riflette più oltre Grazie a tutti